L'emergenza rifiuti che vive il comune di Praia Mare sarebbe pilotata, ne è convinto il sindaco Antonio Praticò. Qualcuno, spiega il primo cittadino, è mosso dal chiaro intento di danneggiare l'immagine dell'intera amministrazione comunale. Giovani che hanno bisogno di qualche lira vengono fomendati, sono stati fomendati e probabilmente pagati per buttare la spazzatura dove hanno ritenuto più opportuno per creare un'immagine negativa dell'amministrazione comunale. Ma la ferita è quando si armano, si adoperano le mani di bambini, di giovani per andare ad ingendiare la spazzatura e che probabilmente da quell'ingendio sono stati colpiti loro stessi. Non si può continuare ad avere attività che da 6-7 anni non pagano niente come tributi in questo comune, però sono quelli che armano i cittadini per metterli contro di noi, perché noi vogliamo fare il nostro dovere. Accuse forti, quelle lanciate dal sindaco Praticò, che chiede l'appoggio delle forze dell'ordine. A breve però sarà tutto più chiaro, il primo cittadino è pronto a fare i nomi. Devono tutelarci di fronte a questi movimenti occulti per il momento, ma che possono diventare palesi domani. Oggi è venuto il momento che con la stessa lealtà che io mi sono presentato alla popolazione il 4 di maggio alla chiusura del mio comizio, a breve ritornerò in piazza e chiamerò le cose con nome e cognome.